Buongiorno a tutti, chi vi parla? Marco Mancarella, docente dell'Università del Salento, mi occupo di informatica giuridica più facile da comprendere come diritto delle nuove tecnologie. Sono anche avvocato e da tempo mi occupo di queste tematiche fino ovviamente alla protezione dei dati personali nel mondo scuola, affiancando anche ministero o organismi nazionali sulla tematica eventualmente nella predisposizione di alcuni atti regolamentari che poi impattano sull'intero comparto pubblico. Questo primo modulo attinente alla didattica digitale integrata ovviamente approfondirà le basi, le basi che sono essenzialmente normative, nazionali e ministeriali. Dobbiamo partire prima di tutto da una definizione, cioè parlando di didattica digitale integrata dobbiamo comprendere cosa in realtà sia. Questa definizione, questa prima definizione che adesso prendiamo in considerazione per poi svilupparla nel corso del modulo, è ripresa dal decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 agosto 2020 numero 8, composto anche dall'allegato il tema di linee guida didattica digitale integrata. La DDI si presenta quindi come una metodologia innovativa di insegnamento e apprendimento come una modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. Primo dubbio da smarcare, ma sicuramente più che lecito, cioè la differenza tra la didattica a distanza e la didattica digitale integrata. Due locuzioni con le quali ci siamo confrontati nel corso del 2020, in una prima fase di pandemia si è parlato da subito di didattica a distanza, per poi nel corso dell'estate invece spostare la linea d'attenzione sulla didattica digitale integrata. Ma qual è appunto la differenza? La didattica digitale integrata è proprio tale perché integra in maniera digitale l'apprendimento che normalmente viene anche svolto in presenza. Quindi vi è un'integrazione tra digitale e attività formativa in presenza, mentre la didattica a distanza è svolta interamente sulle piattaforme digitali. Proprio per questo motivo vi è stato un approccio istantaneo al deflagare della pandemia, un approccio alla didattica a distanza in quanto andava ad impattare in maniera immediata su alcune dinamiche scolastiche che non potevano sicuramente essere gestite anche in presenza, quindi direttamente in digitale. Normalmente utilizzando anche termini in inglese si parla di blended learning o hybrid learning, ma sono ovviamente terminologie che al momento non ci appartengono a livello normativo nazionale e ministeriale. La definizione quindi di didattica digitale integrata è quindi una definizione che pone in risalto la natura complementare rispetto alla didattica in presenza per l'attuazione sempre del diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti che normalmente iniziato magari un anno scolastico in classe si trovino poi nelle condizioni di improvvise restrizioni di mobilità oppure vivono l'esperienza della quarantena. Sempre approfondendo la definizione che deriva dagli ambiti normativi nazionali ma anche dalla decretazione ministeriale, si configura la DDI sicuramente come uno strumento utile per gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti, lo sviluppo di competenze disciplinari e personali, ma anche per il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento. E infine, sempre richiamando il contenuto degli atti normativi e ministeriali, si configura come uno strumento utile per la rispondenza a esigenze dettate da bisogni educativi speciali, come può essere la disabilità, i disturbi specifici dell'apprendimento, lo svantaggio linguistico. Ora, l'escurso normativo è piuttosto ampio, nel materiale messo a vostra disposizione viene anche ricostruito. Ovviamente è un escurso normativo che attiene al primo periodo emergenziale, quello più che altro della primavera 2020 fino all'inizio dell'estate del medesimo anno e poi caratterizzato dalla didattica a distanza e poi in quello invece estivo e autunnale, sempre del 2020, caratterizzato invece dall'approccio al concetto, come abbiamo visto, di didattica digitale integrata. Sono veramente variegati gli interventi, possini essere dal Ministero dell'Istruzione o a livello anche governativo. Per quanto riguarda l'ultima decretazione, possiamo sicuramente citare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021. Fermo restando che comunque parliamo sempre di una normativa in continua evoluzione, che quindi non si arresta a questa fase nella quale peraltro stiamo anche registrando il modulo didattico in questione, ma probabilmente avrà ulteriori evoluzioni nel tempo, sempre legate all'ulteriore evoluzione dell'emergenza pandemica. Quindi ancora probabilmente alcune pagine di normativa nazionale ministeriale devono essere scritte.